È in programma stasera alle 18 nel Palazzo Civico l'incontro convocato dal sindaco di Nuo Andrea Sud con gli imprenditori nuoresi e del circondario. L'obiettivo è quello di trovare una soluzione alla crisi societaria della nuorese calcio, conseguente alle dimissioni del presidente Michele Artedino che giovedì scorso ha riconsegnato le chiavi dello stadio Frogheri al primo cittadino. Una crisi complessa e difficile soluzione ma che bisogna risolvere quanto prima, anche perché il conto alla Roveshav per la presentazione dell'iscrizione al campionato di Serie D è iniziato. La Lega Nazionale di Lettanti aprirà le procedure informatiche l'8 luglio e le chiuderà il 12 luglio alle 18. Per quella data occorrerà avere un quadro certo dell'organigramma societario e poi procedere con tutte le formalità e gli impegni economici previsti dalla iscrizione al campionato per tasse e fidei usioni. Anche per questo il sindaco Sud ha deciso di impegnarsi personalmente per sbloccare l'impasse. Uno dei passaggi fondamentali, ha sottolineato il primo cittadino nell'appello lanciato sabato, è quello di incontrare il mondo delle imprese per valutare insieme la situazione societaria e la fattibilità di un nuovo progetto che riguardi la prima squadra, il settore giovanile e la gestione dello stadio Franco Frogheri. Un invito a ricordare il sindaco Sud per tutti coloro che vogliano dare una mano ad un club che ha quasi 90 anni di storia e che è sempre stato capace di aggregare attorno a sé migliaia di appassionati in un resi del circondario, svolgendo un importante ruolo sociale.